Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay ETA Oggi siamo su Industrial Petting Un gioco molto particolare e vi premetto già in anticipo che Durante questo video nessuno slime verrà maltrattato realmente Il gioco si divide in due modalità La joint server in cui possiamo giocare con amici Oppure la versione play normale Dove io ho già fatto qualcosina in modo da potervi spiegare Anche se avevo visto il video di Gameplay Channel Ho intenzione di fare un video anch'io Poi magari nulla esclude di poterlo giocare insieme un giorno Noi siamo nel panel di questo robottino qua Che può volare, può fluttuare fino a questa altezza E il gioco è molto rilassato, ritmo compassato Insomma, mixa insieme diversi generi Slime Ranger, Rancher e giochi come Factorio Piuttosto che Satisfactory Perché, allora, prima di tutto ci troviamo in questo mondo Come vi dicevo molto rilassato perché non ci corre dietro nessuno Quindi possiamo vagare, raccogliere il legname Che è il materiale base C'è una foresta enorme intorno a noi In cui ci sono degli slime Gli slime, questi mostrecciatoli qui insomma Premendo il tasto F ci seguono Poi, lì abbiamo il nostro hub principale L'hub principale ci consente di effettuare ricerche Quindi in pratica premendo F possiamo andare a cambiare il contratto E scegliere una ricetta da sbloccare In questo caso ho fatto il trunk recipe La ricetta per il baule Ce ne sono altre Ad esempio lo Sliced Carrots Recipe Praticamente è un piatto Questo piatto dovrebbe consentirci Così come anche altre cose Di fare, di attirare a noi altri slime Perché alcuni slime, ok Premiamo il tasto F Le accarezziamo con le nostre braccia metalliche E ci seguono Quindi i primi li portiamo qua così Ma in seguito poi altri Per seguirci avranno bisogno di ben altro Quindi vedete che lui lo accarezziamo Ok, è contento Ma non ha il cuore Quindi non ci va a seguire Dobbiamo trovare il modo di trasportarli Il sistema di trasporto è molto semplice Gli slime li possiamo accarezzare Li trasportiamo qui E questo ascensore, diciamo Lo porta dentro Connettiamo E finisce tutto qui Qua invece abbiamo il Pet Assembler Praticamente possiamo andare a produrre Vari tipi di Di slime Di cutler si chiamano effettivamente C'è lo slime e il cutler normale Qui abbiamo una macchina Che è la macchina Larvester Il raccoglitore Che scava, diciamo Da questo enorme blocco verde Estraendone una materia Che è richiesta Che è la materia Adesso non ricordo il nome Ma in pratica Se ne facciamo il cutler Vedete il cutler Va a raccogliere Questa materia verde Che è l'unica richiesta Per la produzione di cutler Normali Ovviamente non è una produzione Ottimizzata Perché qui Dovremmo produrre Solo Slime cutler Buttarli qui Loro camminano fino all'ascensore E poi vanno dentro Perché vedete Che per fare il trunk Recipe Abbiamo bisogno Di 10 slime E di 40 cutler Normali Io qui Ho una piccola produzione Di questi slime Normali Dice che ce ne sono troppi Allora in pratica Quello che faremo ora E costruire Un ascensore Ruotiamo Questo ascensore Risolverà Tanti i nostri problemi Perché andremo a connettere Vedete Utilizzando del Legname Prima produciamo Vedete in basso destra Che viene prodotto Tutto quello di cui abbiamo bisogno Poi possiamo piazzare il blocco Noi stiamo producendo Degli slime Normali Gli slime normali Possiamo decidere Di produrli E Ma io direi Che possiamo anche Pensare Di Poi buttarli dentro Però Attendo un attimo Perché la ricetta precedente Che io ho piazzato È stata La factory La factory Devo ancora vedere Che cos'è Vedete che ha due ingressi Quindi Io la metto qui E vediamo Che cosa è in grado Di produrre Perché potrebbe essere In grado di produrre Anche la slime Lo slime Come si produce Perché la domanda È scontata Qua mi chiede slime Ma slime non ne ho Come li produco Lo slime Andando col tasto tab Possiamo andare a vedere Vabbè Vabbè E ritornando qua Possiamo andare a costruire Tanti slime Che poi vedete Vengono messi qua In produzione E ci rimangono In una sorta di Zaino Allora Diamo un'occhiata E facciamo In modo molto più Tattico Perché 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 Noi facciamo Una cosa di questo tipo Allora Prendiamo Questo che lo abbiamo già E lo ruotiamo In modo che abbiamo L'entrata lì Poi Vediamo se riusciamo A fare un altro Di questi Ok Abbiamo usato anche Un caddler Quindi un Dovrebbe esserci scalato Dal totale Che abbiamo Nella base Allora In questo caso Abbiamo fatto Questo Estrattore Lo prendiamo Lui inizia a lavorare Iniziamo a Connetterlo Adesso A questo Ok Lui butta lì E ci produrrà Lo slime Che verrà Estratto Qui L'estrazione Da qui Ci permetterà Di Allora Ok Abbiamo quasi Quasi automatizzato La cosa Allora In pratica Lì produciamo slime Lì in fondo Produciamo i caddler Normali Quindi Possiamo continuare Col progetto E Io direi Che qui Tu produci Solo e semplicemente Ok Ed è già giusto Allora Voi Qua Tac Vieni qui Tac Non posso Perché Ok No me lo sto producendo Infatti funziona Costruisci Chopped wood Ok Diventa molto complesso E Il difetto Forse Di questo gioco È il fatto Che è un'ambientazione Abbastanza Pucciosa E poi Vabbè A me non Un'urta più di tanto Però Allora Allora Qua abbiamo La produzione Di Che tra l'altro Non serve neanche più Questa A dire la verità Perché se I caddler Vengono prodotti Dall'altra parte Possiamo Distruggere Questo Distruggere Tutto Tac E Continuiamo Con il Con questo Sì Poi non è ottimizzato Perché Ognuno di questi Cubi Viene Diciamo Dotato Di tre Snodi Cioè C'è uno snodo Con tre vie In sintesi Vediamo 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 Tac Poi dovrei avere Il gname Ancora Perché ne ho Veramente raccolto Per mezz'ora Senza Sosta Ok Adesso dovrebbe arrivare E' bruttissima da vedere Perché non è ottimizzata Insomma Però Ok Allora Adesso La produzione Dovrebbe essere Buona Anche se In realtà Loro non si spostano Quindi adesso Io vado Gli do una carezza A tutti E Poi Ok Dovrebbe Ricordarvi La storia Delle ostrichette Curiose Di Alice Nel Paese Delle meraviglie Le povere Ostrichette Curiose Dai Non ti faccio Niente Vieni qui Che non ti faccio Niente Vabbè Quando vuoi Sali Ok Ok Potrei Anche pensare Vediamo un po' Se funziona Anche Nell'altra via Tac E tac Posso invertire Il flusso No Non me lo fa fare Purtroppo Non me lo fa fare Quindi Demolisci Costruiamo Quello che abbiamo appena demolito Cioè in pratica Qui La facciamo qui E poi Andiamo a Connetterla Lì Perfetto Adesso ci andrete Poi per i fattacci Vostri Credo State Spuntando Come funghi Quindi Teoricamente Sì No Ma anche Meno Cioè qui Bravissimi Ok Bravi Bravi Vieni Dai 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 Vabbè Intanto Andiamo di là A vedere Cosa succede Perché In pratica Avremo anche Bisogno Di quelli Lì Però Allora Vediamo Qual è il problema Il problema È che Non abbiamo Abbastanza Slime Perché Non abbiamo Slime Perché Non viene Prodotto Sì Perché Devo dirgli Di produrre Slime Ok Perfetto Non avrebbe Intanto vedete Che Intanto Lo sono in viaggio Il problema È che Alcuni Dovrebbero Servirci Anche Normali Quindi Io adesso Provo a mettere Lo snodo Qua E alcuni Dovrebbero Passare Invece Direttamente Di là Ok Infatti vedete Lui sta andando Di là E quindi Adesso In alto A sinistra Da 8 Passeremo 9 9 su 40 Perfetto Quindi Ora stiamo Producendo Dovremmo Magari Anche Andare A controllare La produzione Sta andando Proprio Alla grandissima Gli slime Arrivano Pian piano Ma un po' In realtà Ne ho Anch'io Quindi posso Andare Anche manualmente Ad aggiungere Slime Bowl Va bene Allora Intanto Questa è la nostra Prima produzione Qua poi Possiamo andare A cambiare La produzione Ma non lo voglio Fare Vi voglio far Vedere Però L'aiuto L'inventario Insomma Quello che si può Fare Le factory Il gioco È Davvero Davvero Interessante Si trova Su steam È abbastanza Abbastanza Particolare Della verità Perché È uscito Da pochi giorni Il 17 di marzo Adesso non so Per quando vedrete il video E costa sui A prezzo pieno Però vi parlo Costa sui 16 euro 16 euro 79 Poi adesso Per l'uscita è scontato A 15 Insomma Non è un gioco Per tutti di sicuro Perché Ha una bella componente Per far andare Il nostro Cervello Perché Comunque dobbiamo ingegnarci Per fare qualcosa Di Logico Di costruito Con metodo Insomma Non avrà la bellezza grafica Di satisfactory Non avrà nemmeno La stessa ambientazione Di satisfactory O factorio Però sicuramente È interessante Vedete che intanto La produzione sta salendo E loro Vanno per conto loro Ad aumentare Doveva essere il primo Adesso che gli arriva Infatti In alto sinistro Vedete che adesso C'è 1 su 10 Degli slime Quindi Stiamo andando Anche discretamente bene Dovrei forse Rivedere un pochino Il recinto Perché sta dando Un po' troppa Libertà A questi omini Quindi adesso Vado Crafto Il Dovete andare Solo fin qui E nient'altro Ok Facciamo così E direi Basta Ok Così che Questi Li lasciamo Liberi Li porteremo Poi a mano A Dove dobbiamo Così Ne abbiamo Ottimizzati In Slime Ranch Era tutto un po' Diverso Perché non aveva Queste automazioni Se non ricordo male Ma c'erano Dei Dei cannoni Diciamo che prendevano All'interno G slime Adesso direi Che è tutto Piuttosto Ottimizzato 3 su 10 Una volta che La produzione Sarà finita Cioè Avremo abbastanza Slime verdi Cioè Il cadler Verdi Interromperemo La produzione Da là E E Manderemo Tutto direttamente Qui Adesso Voglio vedere Se è possibile Si Si può andare Ad aggiungere Una giunzione Beh Demolirò qualcosa In pratica Andrò a A produrre Tutto quello Che serve Cioè Non più Questi slime Interromperò La produzione Di slime Andate 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 Ragazzi Che Voi servite Tantissimo Non fermatemi La produzione Perché Bravo Bravo Vieni qui Bravo Ok Produzione Stiamo andando Sei Bene Siamo 8 su 10 A breve Poi Fermeremo Tutto E manderemo Direttamente Di là Alla fine Il gioco È in early access E Dovrebbe rimanerci Un po' E Il gioco È Un sistema Base Ha già Comunque Parecchi Meccanismi Quindi È già Credo godibile Così Stoppati 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 Cambia la ricetta E fai il card La normale Scusi Mi segua Mi segua Scusi Voi Mi servite Qui Bravi Sì Adesso Però Andate su Perché io Adesso Non ho più tempo Ok Tutti Gli animali Che arrivano Vanno Di là Mentre qui Invece Ho bisogno Di non Far più Nulla Ho bisogno Di Dirgli Di non Produrre Più Niente Anzi Dovrei Fare Una Piccolissima Correzione Alla Produzione Perché Avrei Bisogno Necessità Attualmente Di cambiare Il sistema Riproduzione Perché Devo Mettere Una Produzione Così In modo Che Mi Produci Semplicemente Il Green Goo Che Mi serve Per la Produzione Di 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 Tizi Normalissimi Sì 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 Vada Vada Produca Sì Vai Ok Ok No sta arrivando In modo che Adesso Oddio Ok Ne manca uno Di questi Verdi Che non ne vuol Sapere di andare su Ma Adesso Lo convinco Ok Dovremmo Adesso vedete Esce E va Dentro Ok Siamo a 10 su 10 Me ne mancano solo 30 Degli altri Quindi Adesso Questi Io posso fare una cosa così Li accarezzo un po' Mi faccio seguire Venite Venite E l'altro Vabbè L'altro Non ne vuol sapere Vieni qua Ok Andiamo Seguitemi Mi può seguire solo uno Vabbè Allora Vieni qui Vieni vieni Non ti faccio nulla No Qui Ok Uno è andato Andiamo a portare anche l'altro Venga Venga Non ci incischi Lo portiamo qui E poi andremo a vedere Con il trunk Che cosa si può fare Allora Questo Non sappiamo ancora come Però è pucciosissimo Questo Uè Ciao Potrebbe essere anche Un gioco Così Sulle prime Per bambini Ma In realtà Dipende Insomma Potrebbe piacere molto Dai Su Uno Avanti Non devo dirvelo io Cioè Dovete Dovete salire Spontaneamente Ragazzi Ragazzi qui Tutti qui Tutti qui Dai Non Su Sì Niente A mali estremi Faremo Faremo più Più stazioni Per portare Gli slime Presumo Perché Qua vedo che Fanno un po' Quello che ne hanno voglia Little Elevator Aggiungi Ah ok Ho sei Ho dei Cuddler Di mio Nello zaino Ok 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 Dai Stiamo andando anche Bastanza bene Andiamo Andiamo Che Non ho ancora capito Come equipaggiarli Però Allora Ma io voglio capire una cosa Se io prendo uno di questi Produco subito uno di questi E lo piazzo Qui Non si può Non si può assolutamente Però Lo voglio mettere qui Così che Vado a connettere Questo Qui Poi Qui E poi Lo collego di là Ok E allargo Anche un po' Il Il recinto Ancora nove Nove blocchi Quindi Ok Perfetto Voglio Demolire questo E anche questo Così magari Vabbè Stiamo andando Discreatamente bene Ne mancano sette E abbiamo concluso il progetto Allora Lei Sì Ok Arrivederci Ok Sì dai Qualcuno adesso sta Sta viaggiando Sta Stanno andando Vieni Vieni Vai bravo Anche tu Coraggio Vai E un po' Ne abbiamo adesso in viaggio Quindi Dovremmo farce Ne mancano quattro Uno Due Tre Un viaggio Vediamo Ne manca uno qui Che è capovolto Vieni Entriamo Buono Vai Fine Mancano tre Due Ok Adesso Vedete Si apre E un po' Alla Satisfactory Viene mandato qualcosa su E in pratica Siamo andati a sbloccare Il tank Il tank Ci chiede solo legno E che cos'è il tank Non lo so Andiamo a vedere Ah lo sto costruendo Guardate quanta roba sta costruendo Ok Ah ne sta producendo due Ok va bene Voglio andare a piazzare il tank Che ho E ha Un'entrata uscita Un'entrata uscita Quindi Quindi Potrei fare Questa cosa Io vado Qui No beh ma qua È una Una produzione Non lo so Facciamo Questo qua Voglio vedere se funziona Come penso io Io adesso prendo Questo Lo collego qua Demolisco questo Ah vedete che sto invertendo Il senso Ok Io demolisco Sì qua dovrebbe supportare L'entrata uscita Quindi io adesso Ha solo due entrate E uscite Quindi Io posso mettere qualcosa all'interno E poi io andare a prenderlo È interessante Perché in pratica Butto dentro Il E posso prenderlo E me lo metto nello zaino Ok perfetto Perfetto Allora demoliamo tutto Quindi Lì mi produce I tizi I caddler normali Posso produrre poi Posso produrre poi un altro Blocco Che mi fa Un altro tank Che mi tiene all'interno Magari gli slime E gli slime E diciamo che non ha ancora Molto senso Perché mi servirebbe Un baule Con tre uscite Almeno Però intanto Andiamo a vedere Che cosa si può fare Adesso Come produzione Arrow Arrow Receive Cutler At Allora Ok Cioè praticamente È per fargli Fargli tollerare La nostra forma Di robot In pratica La pipe tower Invece Ah è un altro tipo Non ne chiede tanti È della verità Però E questo richiede anche Questi Questi affari qua Che non ho proprio La minima idea Di come fare A produrli Vediamo se qua abbiamo C'è cambiato qualche ricetta No abbiamo ancora queste Quindi siamo ancora Abbastanza indietro Da questo punto di vista Vediamo qua se abbiamo la possibilità Ma dovremmo averla Di fare La produzione di Eh sì Anche della cassa Quindi la cassa Mi servirà del legno Tagliato Quindi dovremmo Impostare Un altro fabbricatore Che ci taglia la legna La butta lì E questo poi produce casse Che poi le casse Si possono mettere Magari dentro altre casse Quindi un po' Una Matariosca Allora ragazzi Questo era Industrial Petting Un gioco Davvero Particolare Ben fatto Devo dire Perché comunque Ha una sua logica Un suo bertè Perché Ha un aspetto Puccioso Ovviamente Non tutti i giochi Possono avere L'aspetto Serioso E Diciamo Severo Di un Satisfactory Di un Factorio Di un Qualsiasi altro Gioco di questo tipo Molto particolari Sono contento Di averlo giocato Di averlo portato Ringrazio anche Gameplay Channel Per avermelo Consigliato Perché Gli ha fatto il video Poi mi ha detto Guarda È veramente carino Provalo Infatti Devo dargli ragione Lo ringrazio ancora Ringrazio ancora Tutti voi Non mancate di lasciarmi Un commento qua sotto E noi ci sentiamo Al prossimo video Gameplay Alla prossima ragazzi E ciao 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 C'è